Il primo tema che trattiamo è l'incontro avvenuto questa mattina a Palazzo Silone a L'Aquila tra l'ambasciatore americano John Phillips e gli studenti abruzzesi che hanno frequentato la Wayne University di Detroit. Vediamo. Grazie Presidente, sono molto lieto di essere venuto in Abruzzo a incontrarvi oggi. Essendo l'ambasciatore degli Stati Uniti spero di avere l'opportunità di vedere e incontrare tutte le regioni dell'Italia. Sono tutte diverse e tutte molto interessanti. Prima giornata abruzzese per John Phillips, ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, accolto a Palazzo Silone all'Aquila dal Presidente della Regione Luciano D'Alfonso. Motivo principale della visita è l'incontro con gli studenti dell'Università dell'Aquila che grazie al progetto Wine in Abruzzo hanno svolto master e programmi di ricerca nella Wayne State University di Detroit. Mentre sono stati 450 gli universitari americani che hanno studiato la lingua italiana nei campus estivi di Gagliano Aterno in provincia dell'Aquila. Ora sono contento di incontrare le persone che considerano Abruzzo la loro casa e che vogliono sottopormi le questioni relative a eventuali incontri, investimenti, attrazioni degli Stati Uniti qui. Sono contento di essere qui e di vedere come l'Italia si pone e sono anche molto dispiaciuto per quello che è successo per il terremoto, per questa tragedia che c'è stata. Aggiunto da Alfonso, Wayne Abruzzo è una formidabile esperienza di formazione e internazionalizzazione che produce i cittadini di un mondo nuovo. A seguire l'ambasciatore ha fatto visita al centro storico dell'Aquila, prossima tappa Pescara. Al nostro microfono l'esperienza di studio negli Stati Uniti dalla voce di una protagonista. Io sono stata negli Stati Uniti per fare parte della ricerca della mia tesi di laurea magistrale ed è sui trasporti e sulla città di Detroit. Quindi insomma è stata una bellissima esperienza anche perché mi sono dovuta confrontare con una realtà totalmente diversa da quella nostra. La differenza che maggiormente ti ha colpito? Beh è tutto molto più grande, è tutto pensato molto in maniera megalomane, tra virgolette, come magari si può vedere dai film e così. Però gli italiani sono molto ben visti, quindi una cosa positiva l'abbiamo trovata. Scongiurare la realizzazione di un inceneritore in Abruzzo. Gli ambientalisti lanciano l'allarme alla luce di quelle che sono le disposizioni del governo contenute nel decreto Sblocca Italia. Ancora una battaglia degli ambientalisti contro il decreto Sblocca Italia, questa volta a finire sotto la lente, è il caso degli inceneritori che nel caso dell'Abruzzo richiederebbe la realizzazione dell'impianto per una produzione di 121.000 tonnellate, così come pubblicato tra i dati ufficiali. Il governo nazionale vuole imporre all'Abruzzo l'inceneritore, che attualmente non ha. Lo fa attraverso il decreto Sblocca Italia, approvato nel 2014, è un decreto attuativo che è in corso di varo da parte del governo nazionale. La regione Abruzzo ci ha detto che rivedrà il suo piano regionale dei rifiuti ed escluderà il ricorso all'incenerimento. Peccato però che il governo nazionale ha chiarito in un documento del Ministero dell'Ambiente che le regioni dovranno adeguare i propri piani al volere del governo nazionale. Quindi ci sarà un'imposizione, non ci si potrà confrontare col governo, decidere cose alternative. Bisognerà attuare, lo dice nero su bianco il governo, in questo documento, bisognerà solo attuare le scelte governative. Quali possono essere le conseguenze sull'ambiente della realizzazione di un inceneritore? Le emissioni in atmosfera. L'Italia è stata chiusa per settimane per la questione delle polveri sottili e il governo che fa, invece di ridurre le emissioni, ne fa produrre altre. È veramente una follia da parte di questo governo che deve essere rigettata in pieno e subito dalla regione Abruzza e da tutti gli enti territoriali. Una donna di 76 anni, originaria di Campobasso, è stata trovata morta nella sua abitazione in via Carlo Alberto della Chiesa Pescara. La morte dovrebbe risalire una quindicina di giorni fa e in base ad una prima ricostruzione sarebbe dovuta a cause naturali. Il corpo trovato in cucina era già in stato di decomposizione. A lanciare l'allarme stamani sono stati vicini di casa preoccupati perché non vedevano da giorni la donna. A insospettirli anche il cattivo odore che arrivava dall'appartamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco per l'apertura della porta, gli agenti della squadra volante e il medico legale. La donna viveva sola e non aveva parenti a Pescara. Incurante del divieto di avvicinamento dei confronti della ex, aveva continuato a minacciarla e molestarla, tanto da finire ai domiciliari con l'accusa di stalking. Accusa che questa mattina, al termine del processo davanti al giudice Flavio Conciatori, è costata ad un 59enne di Campli una condanna ad un anno e tre mesi e a 6.000 euro di multa. I fatti contestati all'uomo risalivano allo scorso anno quando, dopo continue minacce e molestie, la ex aveva deciso di denunciarlo. Grazie alla dotazione di tablet che renderanno possibile l'accesso diretto alla sala operativa, saranno più efficienti del 40% le operazioni delle volanti della Questura di Pescara. L'iniziativa arriva grazie al contributo dei privati con la Pescara Calcio, che si è fatta promotrice del progetto Mercurio. Secondo i dati della Questura di Pescara, il primo trimestre 2016 si apre con una diminuzione dei reati di lesioni dolose e violenze sessuali. A diminuire sono anche i crimini contro il patrimonio, come scippi, furti in esercizi commerciali, furti di auto, ciclomotori. Diminuiscono anche le istorsioni, le truffe e le frodi informatiche, dati che riportano l'attenzione sull'efficacia della presenza sul territorio, sul monitoraggio costante da parte delle forze dell'ordine. E oggi, alla presenza del prefetto di Pescara, del questore e del presidente della Pescara Calcio, arriva una notizia sull'implementazione dell'efficacia delle volanti, che entro due mesi verranno dotate di nuovi strumenti per ottimizzare le operazioni delle unità mobili. Si tratta di tablet collegati con tutti i dati delle centrali operative. Il fatto di poter utilizzare una strumentazione all'avanguardia dell'ultima generazione, guardate che non ce l'hanno tutti in Europa e anche in America. Io vado spesso al New York Police Department, quando gli dico le nostre tecnologie mi guardano sbalardite, all'assessore della sicurezza del Comune di New York, che è il capo del Dipartimento, dice ma voi siete così avanti, noi siamo veramente avanti come Polizia di Stato. Quali sono alcune delle funzioni rivoluzionarie? Il fatto di poter controllare, guardate, con la telecamera attiva c'è il controllo targhe, il controllo targhe ti permette di controllare 60 targhe al minuto, perché la targhe viene presa, inviata al cervellone e ci risponde l'immetatezza. Un'iniziativa voluta dal presidente della Pescara Calcio, Daniele Sebastiani, che ha ricordato l'impegno promosso su tutto il territorio dalle forze dell'ordine, che meritano il sostegno dei privati, facendosi lui per primo promotore e realizzatore. Noi abbiamo un grande rapporto di collaborazione, perché giornalmente lavoriamo in collaborazione delle forze dell'ordine per via della gestione della Pescara Calcio. Ci ha illustrato questo progetto, ci abbiamo messo veramente un attimo a dare il nostro assenso, perché si tratta della sicurezza, della sicurezza di tutti, di noi tutti, dei nostri figli, e quindi come dire no a un progetto del genere. Dopo la protesta di ieri mattina sotto la sede della ASL di Teramo, il successivo incontro in prefettura, i sindacati cercano di tutelare le 38 lavoratrici della PAP che si occupa del servizio mensa in ospedale. Per questo l'11 di aprile ci sarà un incontro con i vertici della ASL. Un secondo incontro in prefettura è previsto l'11 aprile sulla situazione dei 38 oggi lavoratori alla preparazione dei passi della ASL di Teramo. Sindacati ieri preoccupati, cosa è cambiato? Chiaramente il numero è cambiato e questo è comunque un aspetto positivo, perché come diceva lei da 46 siamo già scesi a 38 ed è un aspetto relativamente confortante. L'incontro di ieri è servito soprattutto per incontrare la nuova proprietà della PAP, con la quale in settimana contiamo di rivederci, perché si sta cercando di capire quali sforzi possa fare l'azienda e quali possa fare l'ASL per arrivare poi a ricollocare tutti gli lavoratori attualmente ancora fuori. Il prossimo incontro si terrà lunedì in provincia, perché ieri era assente l'ASL e certamente in un ragionamento del genere l'ASL avrà un ruolo decisivo, così come lo avrà anche la Regione con la quale ci siamo incontrati nella persona dell'assessore la scorsa settimana e quindi sia dalla Regione che dalla ASL attendiamo quelle ulteriori risposte che noi riteniamo siano indispensabili per trovare la soluzione definitiva. Da dove nasce la vicenda? Perché non è dal cambio di proprietà della PAP? Sì, questa domanda mi fa molto piacere perché ci dà la possibilità di chiarire una volta per tutte che non stiamo parlando di 46 lavoratori interinali, perché in questa condizione queste persone si sono ritrovate dopo che nel 2014 la ASL fece la scelta di far passare in blocco queste persone su un'agenzia di lavoro interinale e oggi per questa scelta che noi consideriamo col senno di poi assolutamente proprio impropria queste persone si trovano messe alla porta. Chiaramente questa cosa non è accettabile, lo stiamo dicendo in tutti i modi possibili e immaginabili e respingiamo con tutte le forze possibili l'idea che si vuole far passare e che queste persone vanno considerate la stregua di interinali qualsiasi perché così non è. Si rinuncia alla prescrizione nel momento in cui il Tribunale annuncia che è scattata. A quel punto io ho il diritto di poter dire che rinuncio e quindi il processo va avanti. Purtroppo succederà il 7 ottobre, fino a quel giorno posso solo affermare, garantire e impegnarmi. Lo afferma l'ex capo Dipartimento della Protezione Civile Guido Bertolaso in una intervista al sito fanpage.it in relazione al processo cosiddetto grandi rischi bis nei suoi confronti in corso al Tribunale dell'Aquila dove è imputato per omicidio colposo plurimo e lesioni. Gli eventuali reati verranno prescritti il 6 ottobre 2016 a 7 anni e 6 mesi esatti dal sisma assieme a molte altre inchieste. Inizierà questa sera alle 22 la fiaccolata in memoria delle vittime del sisma. Alle 3.32 i rintocchi della campana in Piazza Duomo per commemorare chi non c'è più. L'Aquila si ferma, l'Aquila ricorda, l'Aquila si stringe nel dolore e nella memoria di quella maledetta notte di 7 anni fa che ne cambiò per sempre la storia. A partire da questa sera quando alle 22 la città si ritroverà davanti il Tribunale in via 20 Settembre per una sorta di via crucis del dolore che si concluderà in Piazza Duomo. A mezzanotte sarà data la lettura dei nomi delle 309 vittime cui seguirà una messa nella chiesa di San Giuseppe Artigiano ed una veglia che si protarrà fino alle 3.32 quando la campana della chiesa di Santa Maria del Suffragio meglio conosciuta delle anime sante rintoccherà per 309 volte. Domani una staffetta commemorativa toccherà ai principali comuni e le frazioni dell'Aquila colpite dal sisma mentre nel capoluogo alle 9.30 nella chiesa del cimitero si svolgerà una celebrazione eucaristica in memoria dei 309 angeli cui seguirà alle 11.30 presso l'auditorium del Parco un concerto della fanfara della Polizia di Stato. Nel pomeriggio poi una corsa non competitiva che partirà dalla caserma della finanza a Coppito che si concluderà a San Bernardino dove alle 18 le principali istituzioni musicali locali ad Abruzzesi renderanno omaggio alle vittime del terremoto con le musiche di Mozart. Marco Cassini, attore e regista terramano, ha presentato questa mattina in anteprima nazionale la sua opera prima La notte non fa più paura che racconta il terremoto dell'Emilia. Alla vigilia del settimo anniversario del terremoto dell'Aquila Marco Cassini, attore e regista terramano presenta La notte non fa più paura, film sul terremoto dell'Emilia nato dall'esperienza tragica di un abruzzese e un emiliano. Il film è nato per strada con uno dei miei migliori amici che è un attore straordinario e lui è nato in Emilia e mi fa Marco ma com'è stato il terremoto dell'Aquila? Io gli ho raccontato di quello che ho vissuto, di quello che hanno vissuto i miei più cari amici e lui mi ha detto delle cose sin troppo similari da non mettere insieme per ricordare qualcosa. Inoltre, ti dico la verità, avevano già realizzato troppe cose sul terremoto dell'Aquila e non volevo essere speculativo. Invece tante cose del terremoto d'Emilia ancora non si sanno. Un terremoto che ha coinvolto lavoratori, imprenditori, anche studenti, gente comune, gente di famiglia e questa è la risposta. Il mio obiettivo era quello di riuscire a ricordare una cosa del genere che ci ha coinvolto tutti ma coinvolge anche a Genova per altre calamità naturali o l'Irpinia, se ci vai a pensare. L'obiettivo era quello, di ricordare e di capire come si può superare un dramma del genere dentro a cuore una ferita così aperta. Ispirato a fatti realmente accaduti, La notte non fa più paura è il frutto di anni di lavoro e sacrifici di un giovane cast tecnico e artistico che nonostante le mille difficoltà non ha rinunciato a raccontare una storia di vita vera. Un film che ricorda un dramma, lo fa in maniera molto sobria, offre uno spunto positivo cioè come superare la notte, che metaforicamente è il momento più buio della vita di una persona la notte non fa più paura perché ci sono delle scene che ricordano tanto quello che è successo qui da noi e quello che è successo anche a Ferrara, a Mirabello, in tutti i posti che abbiamo girato. Venite a vederlo e poi ne parleremo insieme in sala. E ora parliamo della vicenda del taglio dei pini a Pescara c'è stato lo stop al taglio deliberato dalla soprintendenza e in riferimento a questo stop il comune di Pescara ha annunciato che ricorrerà al TAR che ha appunto imposto questo stop al taglio. La comunicazione è stata data dal primo cittadino Marco Alessandrini nel corso di una conferenza stampa nel pomeriggio è una operazione di onestà intellettuale ha detto Alessandrini contro le polemiche sterili perché nostro interesse è tutelare l'incolumità delle persone per aver eliminato delle piante pericolose che verranno sostituite. Noi non siamo degli insopportabili Attila ma abbiamo fatto la fotografia del Reale ci addolora a battere degli alberi ma doverosamente li sostituiremo in un'opera di riqualificazione ambientale che prevede anche delle piste ciclabili. Vediamo cosa era successo questa mattina con un presidio e una protesta da parte degli ambientalisti. Nessuno tocchi i pini di Viale Regina Margherita gli ambientalisti scendono in strada a Pescara per manifestare tutto il loro dissenso verso l'amministrazione comunale che ha reso noto di voler tagliare alberi quasi secolari per lavori di restyling urbano annunciando anche la volontà di sostituire con nuovi arbusti quelli sacrificati. Pescara è una città che ha uno standard di verde molto al di sotto degli standard europei siamo a fronte del 9% per abitante appunto nelle città europee e noi siamo al di sotto del 2%. Ci pare incredibile che si possa fare un'azione di questo tipo tra l'altro non consultando cittadini e associazioni competenti. A spiegare le ragioni delle contestazioni degli ambientalisti ci sono anche esperti che ricordano la funzione fondamentale che gli alberi hanno nell'ecosistema primo fra tutti quello sull'inquinamento. Tagliarli è veramente l'ultima spiaggia poi comunque una pianta di 70 anni non è assolutamente paragonabile a una pianta giovane cioè la funzione che fa cioè per esempio l'assorbimento dell'energia carbonica è tutta nel fusto una pianta giovane non c'è la fotosintesi lo fa la chioma poi una pianta vecchia è una pianta che dà tante nicchie ecologiche ospita insetti, ospita uccellini ospita insomma tutta una fauna che nelle piante giovani non si trova. Nel corso della mattinata poi a scendere in campo anche forze politiche di Carlo Masci l'iniziativa di chiedere l'intervento della sovrintendenza che prontamente ha operato un sopralluogo dimostrando di non essere a conoscenza della situazione. Io penso che la sovrintendenza bloccherà questi lavori li sospenderà con un provvedimento ad hoc perché doveva essere interpellata perché questa via è un patrimonio culturale e ambientale della nostra città e non si può pensare di abbattere 19 alberi 19 pini che costituiscono veramente l'essenza di Pescara. E come detto lo stop della sovrintendenza è effettivamente arrivato. Annunciate dal sindaco di Roseto Ennio Pavone novità per il Borsacchio fra cui il piano ambientale naturalistico e la nuova associazione che gestirà la riserva. Sindaco Pavone parliamo della riserva del Borsacchio ci sono novità sul PAN ma non solo. Sì, la riserva del Borsacchio che in questa città ha tenuto banco per tanti anni questo argomento ecco finalmente noi siamo riusciti anche a concretizzare alcuni atti amministrativi che erano bloccati sicuramente non per cattiva volontà ma perché c'erano degli incarichi dati precedentemente per la compilazione del piano di assetto naturalistico alla famiglia Nigro e noi abbiamo dovuto prima chiudere i rapporti con il professor Nigro e i suoi eredi con un atto di transazione che abbiamo concluso nel mese di dicembre e quindi adesso siamo arrivati ad affidare la revisione del PAN prendendo tutto quello che di buono c'era in quello precedente e togliendo quello che invece secondo noi non andava bene e abbiamo affidato all'architetto Fabrizio De Gregorisi l'incarico di redigere il piano di assetto naturalistico. Abbiamo anche affidato la gestione all'associazione Ambiente e Vita e anche poi all'avvocato Benigno Dorazio il piano di attuazione questo pseudo commissariamento che la regione ha fatto qualche mese fa ma che in realtà non poteva nei termini in cui l'ha fatto e che è servito solamente a dare adito sulla stampa a rimarcare le problematiche inerenti alla riserva del Borsacchio le attività le stiamo facendo e stiamo andando avanti in base a quello che erano i nostri programmi Finalmente una riserva che diviene fruibile, diviene visitabile e che finalmente sarà a tutti gli effetti un'altra arma in più per l'offerta turistica di questa città un vanto di questa amministrazione che può continuare a portare avanti un lavoro svolto e che ci auguriamo quindi possa durare per tanto tempo Organizzato da Confcommercio e da Fida si è svolto questa mattina a Teramo un incontro per discutere della direttiva Bolkenstein che mette a gara di evidenza pubblica europea le concessioni balneari Gianmarco Giovannelli una norma ancora in itinere un argomento di grande attualità oggi più che mai si parla della direttiva Bolkenstein che sa in cosa ci si aspetta parlandone L'intento intanto è parlarne e coinvolgere gli addetti ai lavori istituzionali quindi parliamo di sindaci in questo caso oggi affrontiamo con la Fiva Confcommercio la tutela degli interessi degli operatori su aree pubbliche come anche a volte e spesso si affronta il tema delle aree demaniali che coinvolte entrambi in questa normativa che in realtà deve essere ancora chiarita su alcuni e molti aspetti coinvolge gli interessi diciamo di tantissime attività che assolutamente non possono continuare a vivere su un'ipotesi di risoluzione senza elementi certi è bene che gli enti si rendano conto delle condizioni anche di preoccupazione e di poca programmazione che queste attività possono sviluppare in visione di una norma che potrebbe stravolgere o quantomeno che potrebbe comunque coinvolgere i propri rinvestimenti a partire ad esempio se parliamo di demanio dalla partecipazione all'asta per riacquisire le proprie concessioni in questo caso anche da rimodulare con questa norma anche quelli che erano tra virgolette delle consuetudini acquisite da una licenza comunque che era stata comprata partendo dal fatto che oggi molti operatori vivono un'ansia una preoccupazione che già in un momento come questo crea non pochi problemi alle proprie ambizioni lavorative e soprattutto a eventuali progetti futuri è iniziato ieri e si protrarrà fino al 7 aprile il convegno internazionale della sezione italiana dell'istituto libero americano di diritto costituzionale incontri itineranti nelle sedi delle università abruzzesi per la prima volta in abruzzo 130 studiosi di 40 università di 8 stati si incontrano in occasione del convegno costituzione economica e democrazia pluralista un convegno internazionale della sezione italiana dell'istituto ibero americano di diritto costituzionale dedicato a uno dei temi più attuali del processo di trasformazione costituzionale in atto quello del bilanciamento tra gli imperativi della costituzione economica e i valori della democrazia pluralista l'istituto ibero americano di diritto costituzionale che è la maggiore espressione del diritto della giurisprudenza latinoamericana ha una sezione italiana di cui faccio parte io il professore Mezzetti il professore Romano Ruh di cui fanno parte praticamente i professori dell'università abruzzesi alcuni e in questo senso abbiamo lanciato questo è il secondo elemento di cui si tiene conto un sistema universitario abruzzese superando le burocrazie e le politiche noi lo facciamo sul piano scientifico sostanzialmente le tre università ora stanno lavorando insieme per fare in Abruzzo un convegno che farebbe tre maripolsi a Università del calibro della Bocconi o della Sapienza di Roma il terzo elemento è il contenuto il convegno ha come tema la costituzione economica cioè l'elemento di equilibrio più delicato che deciderà in questo momento e in futuro il futuro stesso degli stati il futuro stesso della democrazia e noi abbiamo provato a declinare in tutti i modi possibili dalla finanza pubblica alla moneta all'euro l'uscita all'euro l'Europa il multilivello il mercato la liberalizzazione e poi la globalizzazione poi TTIP i BRICS e poi l'Unione Europea diciamo la corruzione che è un elemento notevole il convegno si concluderà con una tavola rotonda dal titolo sovranità economica tra istituzioni di garanzia e istituzioni rappresentative alla quale parteciperanno insieme a studiosi di varie nazionalità il vicepresidente del consiglio superiore della magistratura Giovanni Legnini e il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone il 7 aprile presso l'auditorium del rettorato di Chieti esprime soddisfazione il sindaco di Loreto Starinieri che ieri assieme ai comuni di Manoppello e Giulianova ha incassato il sì al finanziamento per la costruzione della nuova caserma dei Carabinieri finanziamento importante per il comune di Loreto Aprutino che si è visto destinare ieri 700 mila euro per la costituzione di una nuova caserma dei Carabinieri un'opera per cui stavano già lavorando da tanto e che ha visto l'incontro ieri in regione con Luciano D'Alfonso e con i sindaci dei comuni interessati tra cui appunto Gabriele Speri Starinieri di Loreto Da più di un anno abbiamo affrontato il problema della costruzione della caserma a dire il vero è la prima volta che si costruisce una caserma dei Carabinieri a Loreto in precedenza erano sempre strutture riadattate ad ospitare i Carabinieri quindi ecco colgo l'occasione per ringraziare il governatore D'Alfonso che ha ravvisato la necessità per la sicurezza dei territori ma anche per le esigenze degli operatori della sicurezza di essere accolti strutture idonee quindi noi di Loreto l'amministrazione io in prima persona da più di un anno all'acramente abbiamo lavorato e il traguardo di ieri avere un finanziamento adeguato noi abbiamo a disposizione un terreno quindi basterà sarà frutto di accordi con il comando generale dei Carabinieri per fare il progetto comunque la cosa è certa entro un anno e mezzo a Loreto sarà inaugurata la caserma dei Carabinieri e ora la pagina sportiva è arrivata l'attesa stangata per il centrocampista trequartista del Pescara Ahmad Benali che dopo il turbolento finale della partita con il Como ha subito quattro giornate di squalifica che gli sono stati appunto inflitte dal giudice sportivo quattro giornate per lui tre giornate al giocatore che ha un po' provocato la sua reazione ovvero il giocatore del Como Barella che era stato sostituito ma dalla panchina si era affiondato in campo dopo l'iniziale di Verbio con Bessa l'autore del fallo proprio ai danni di Benali dunque quattro giornate per Benali tre giornate per Barella una giornata d'ordinanza per Zuparic per Torreira che sono stati ammoniti ed erano in diffida una giornata di squalifica anche per Gaetano Bastola della Virtus Lanciano oggi ha parlato il tecnico del Pescara Oddo ha parlato anche di quello che è accaduto nel finale di gara contro il Como ma ha tracciato anche un bilancio di quella che è la situazione degli infortunati con Campagnaro che starà fuori a lungo per almeno un mese con le tre squalifiche da fronteggiare ma anche le altre assenze per infortuni i vari crescenzi Mazzotta e Coda ascoltiamolo siamo un po' in emergenza perché poi oltre alle essenze per squalifiche e infortuni stamattina si sono fermati un paio di giocatori che non stanno al 100% quindi fortunatamente è ancora martedì quindi vediamo nei prossimi giorni però un po' di emergenza sicuramente c'è mandare con il 1 bisogna essere forti soprattutto nella testa si è determinante è fondamentale perché in questi momenti dove ovviamente a fine campionato le energie fisiche vengono meno le energie mentali vengono meno devi avere molta più lucidità molta più calma devi avere sangue freddo in determinati momenti ecco noi nell'ultima partita c'è stata qualche provocazione finale e noi abbiamo abboccato e queste sono cose che non devono capitare perché dobbiamo renderci conto che poi ci sono altre partite davanti e quindi non bisogna perdere la testa quello che è successo nel secondo tempo di domenica secondo me è legato un pochino al fatto che è uscito Campagnaro perché nel momento in cui è uscito lui si è perso un po' di appiglio verso di lui e questa è una cosa che non deve succedere quindi dal momento in cui adesso sappiamo che lui non c'è bisogna dimostrare che si può fare bene anche senza Campagnaro si deve fare bene anche senza Campagnaro come si è fatto anche in tante partite dove non c'era Campagnaro vedi Perugia in casa ricordo sì Cagliari dove abbiamo fatto ottime partite al di là del risultato però abbiamo fatto partite di personalità noi abbiamo un mini torneo di queste partite che rimangono e dobbiamo fare il più punti possibili poi vedremo dove arriveremo in queste partite sono tanti sconti diretti e dobbiamo sfruttare bene certamente il fattore casalingo ma dato le nostre caratteristiche andare a giocarci le partite anche fuori cercando di fare i più punti possibili poi poi si vedrà finisce qui la seconda edizione del TG6 vi ricordo gli appuntamenti di questa sera a partire dalle ore 21 con Pro Teramo a seguire Pro L'Aquila con le conduzioni di Jacopo Forcella e Giulio Nardi la prossima edizione del TG6 invece alle ore 23 è tutto grazie per l'attenzione e buona serata grazie per la visione